ciao fragoline nuovo video allora dopo tanto tempo che mi avete richiesto questo video come leggete dal titolo cosa mangio in un giorno e volevo farlo e volevo farvi vedere cosa mangio più o meno ogni tanto per cui però prima di iniziare questo video vi ricordo di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto attivando la campanellina così non vi perdete neanche un solo video io non ho capito perché sono bianca ma vabbè e seguirmi su instagram lasciarmi un like se vi piacciono questi questi video e un commentino qua sotto che cosa mangiate voi adesso vi faccio vedere cosa cosa mangio in un giorno pranzo c'è colazione pranzo pranzo merenda e cena in poche parole per cui vi ricordo che non è che quello che vi faccio vedere lo mangio tutti i giorni c'è e solo per questo giorno qua ho mangiato quello per cui non lo faccio non è che mangio tutti i giorni queste cose per cui iniziamo e vi vi faccio vedere cosa mangio allora per prima cosa prendo i cereali dal mio super aggeggio che non mi ricordo mai come si chiama per cui prendo i cereali già preparo ovviamente una tazza di cereali questo poi anche comodo per usarlo poi ovviamente faccio il cappuccino con la macchina magnifica s dei lunghi che avevo fatto la recensione e vi ho fatto anche vedere come funziona per cui ovviamente facile poi in due secondi il cappuccino praticamente è Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info se per caso c'è qualcosa da mangiare ad esempio la torta che ho fatto il giorno prima eccetera giustamente me ad esempio la torta a il giorno dopo per per colazione morbidissima in poche parole che era quasi finita di solito mangio sia di più cereali che cappuccino invece per pranzo passiamo ovviamente al pranzo e per pranzo mi faccio le uova qua vabbè mi sono fatto due uova però calcolate che di solito a pranzo mangio anche le verdure l'insalata quelle cose lì però oggi ho deciso diciamo di fare solo due uova con le fette di pane e il tonno che diciamo che è buonissimo perché io alla fine ovviamente bevo anche l'acqua e la mia preferita è la rocchetta io mi faccio praticamente il panino che anche ancora più buono che mangiarlo normalmente per cui basta solo prendere la fetta di pane metterci l'uovo sopra e poi lo chiudi fa facendo diciamo un panino normale però ovviamente solo con l'uovo è stra buono così ve lo consiglio fatelo perché c'è è molto più buono mangiarlo così che mangiarlo diciamo normale io separo l'albume e il tuorlo perché così è ancora più buono ovviamente dopo mangio il tonno qui divido sempre il tonno con diciamo l'olio però vabbè ogni tanto mangio anche un pizzichino di di olio ma poco anche perché è buono e per cui non si butta e niente una scatoletta di tonno sinceramente è buonissima con un po di pane ovviamente dopo mi bevo un bicchiere di acqua io di solito ne bevo due però vabbè non è che hai visto vi faccio vedere che devo cioè vi faccio vedere ovviamente che bevo tutto bicchiere dell'acqua però non vi faccio vedere un'altra volta come secondo diciamo bicchiere per per farvi capire comunque l'acqua buona che a me piace è la rocchetta per cui questa qua è stra buona e mi fa andare tutte le volte in bagno per cui dopo aver mangiato o anche quando mangio passiamo alla merenda lo spuntino allora se è inverno come diciamo in anche primavera lo faccio praticamente mi bevo il tè caldo prendo un tè caldo quello che ho diciamo a casa normale dipende dal tè praticamente io avevo questo e mi sono fatto un tè calcolate che erano le 3 barra 4 dipende certe volte anche le 5 dopo aver fatto il tè mi mangio le fette biscottate l'inzuppo dentro perché sono buonissime passiamo alla sera cioè alla cena invece per cena mi faccio allora questi ogni tanto le faccio che sono le crespelle allora le crespelle faccio sia prosciutto che mozzarella oppure le verdure ad esempio prosciutto zucchine o formaggio dipende ovviamente come come mi piacciono comunque anche le zucchine col formaggio è buonissimo io ho diviso fatto tutte e due e ovviamente solo per oggi mi sono fatta le crespelle alla sera con la besciamella ovviamente tutto fatto in casa qui va beh vi faccio vedere solo un pezzo di procedimento per le crespelle perché era lungo e non volevo farlo durare tanto il video per cui più o meno vi faccio vedere come facevo io le crespelle e ovviamente infornavo e erano praticamente pronte dopo 30 minuti comunque sono buonissime perché tra la becciamella che ci metti sopra alle crespelle dentro ci metti prosciutto e mozzarella e invece nell'altra ci metti le zucchine con il formaggio la mozzarella e vengono buonissime praticamente questo è quello che mangio alla sera ok questo era quello che praticamente mangio in un giorno calcolate che le crespelle le mangio una volta al mese ma neanche certe volte anche più di mesi 3 4 mesi non esagero anche perché dopo un po fanno male ma invece il cappuccino il tè caldo quello lo bevo ovviamente quando fa un po freddo in estate giustamente non bevo il tè caldo e invece al pranzo calcolate che mangio sempre un uova o insalata carne la pasta la mangio nei weekend invece in settimana non la mangio quasi mai e praticamente calcolate che questo era solo il giorno in cui io mangiavo le cose comunque se volete ad esempio un video dove vi faccio vedere cosa mangio tutta la settimana per farvi capire cioè non so se lo volete scrivetelo nei commenti così lo faccio o anche nei weekend oppure non so tipo di questi generi di video non lo so comunque fatemi sapere voi sotto nei commenti io ho fatto tutto il possibile per fare questo video non è facile ovviamente perché poi ci deve essere sotto la voce non è facile fare questi video fatemi sapere però se volete davvero queste tipologie di video questo era un esempio per farvi capire cosa mangio tra virgolette ok spero che questo video vi sia piaciuto ovviamente se vi è piaciuto lasciatemi un like seguitemi su instagram e iscrivetevi al canale attivando la campanellina noi ci vediamo al prossimo video per cui ci vediamo al prossimo video ciao